Il miracolo di oggi è il miracolo della fiducia nella parola di Gesù. Il funzionario del Re ha percorso tanta strada per chiedere l'aiuto di Gesù, ma ritorna sui suoi passi con fede nella parola del Signore. E' questa testimonianza di fiducia che ci deve commuovere, scuotere fin nel profondo del cuore. Impariamo da questo umile funzionario del Re a mettere in atto la parola che Dio ci dona nella Sacra Scrittura. Questa parola ci parla ed è anche così forte da compiere ciò che dice. Hai fiducia nella parola di Gesù o credi solo alle esperienze sensibili? A che punto si trova la tua obbedienza alla parola di Dio donataci nella Sacra Scrittura?